Allora, sono 17 dollari e 50. Ehi, ciccio, che fai? Non paghi? Sono padre McFeely. Grazie per essere qui. Alla fine riesco sempre a venire. Sa, alla mia età il soldatino ha bisogno di essere smanazzato un bel po' prima di mettersi a pompare. Però ho fatto caso che se mi titillo lo sfinteare prima di cominciare a trivellare allora... Credo di aver capito che cosa intende. Non è più come una volta. Però se lei...